In Abruzzo non è mai accaduto in 30 anni di Anci di andare alla conta dei voti dei 305 sindaci per arrivare all'elezione del nuovo presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ma l'assenza di convergenza tra centrodestra e centrosinistra su una candidatura univoca porterebbe inevitabilmente a questo, una spaccatura politica. La proposta del centrodestra di schierare Pierluigi Biondi al vertice del Lanci non piace infatti al Partito Democratico, che nel sindaco dell'Aquila non vede una figura di garanzia in ragione del suo ruolo di responsabile nazionale degli antilocali per Fratelli d'Italia. A spiegarne le ragioni è Daniele Marinelli, segretario regionale del PD. Noi siamo di fronte a una forzatura del centrodestra e di Fratelli d'Italia senza precedenti. Si va a rinnovo di una istituzione che deve difendere l'interesse dei sindaci, dei territori, come è stato in questi anni con la guida sapiente, intelligente e equilibrata di Gian Guido d'Alberto. Non abbiamo bisogno di un'ennesima forzatura di un centrodestra che considera tutti i luoghi delle istituzioni come luoghi dove esercitare il comando. Noi abbiamo tentato fino all'ultimo e tenteremo fino all'ultimo la possibilità di un dialogo per trovare un accordo con i sindaci, naturalmente, su una figura dalle caratteristiche istituzionali, un sindaco che voglia difendere l'interesse dei sindaci. Non abbiamo trincee, tuttavia non ci si può imporre una delle figure più caratterizzate politicamente del centrodestra in Abruzzo, Pierluigi Biondi. Non ci si può imporre una persona che ha una funzione nazionale di responsabile degli antilocali nel principale partito di governo. Che farebbe Biondi alla guida del lancio in Abruzzo di fronte, per esempio, a un taglio di fondi ai comuni? Difenderebbe i comuni da se stesso, cioè dalle scelte che lui fa da responsabile degli antilocali del governo Meloni? Siamo alle comiche, quindi è una soluzione impraticabile. Noi di fronte a questa forzatura, se il centrodestra non si ferma, candideremo Francesco Menna, presidente della provincia di Chieti e sindaco di Vasto, una figura che sa come difendere i sindaci, che ci consente una battaglia di dignità per difendere un'istituzione che è dei sindaci e non è di chi vuole occuparla come strumento per una funzione di comando, come fa il centrodestra purtroppo con le istituzioni in Abruzzo. Senza questa mediazione quindi si profila uno scontro, diciamo così, tra Biondi e Menna, ma i numeri a livello proprio politico in regione a chi dovrebbero dare ragione? Ma questo lo vedremo, poi decideranno i sindaci, però voglio fare questo tipo di ragionamento, mi auguro che qualcuno del centrodestra abbia anche la sensibilità di capire. Certificare una maggioranza di centrodestra o centrosinistra sul numero dei sindaci in Abruzzo non è una vittoria politica, è una fotografia della realtà esistente. Spaccare lanci, l'unica regione nel paese che adesso andrebbe ad una conta, la prima volta in Abruzzo, spaccare lanci, costringere i sindaci ad una conta, quella invece è una grave ferita, una grave sconfitta politica e istituzionale per tutti. La destra si fermi, altrimenti saremo costretti a questa battaglia di dignità. Grazie a tutti. Grazie.